Nareo Plano si saluta. 13 marzo 1964, un torrente abbagliante di acciaio precipita nell'enorme siviera tra proteste di spruzzi e addi di colore, esprimendo la sua nuova esistenza al servizio dell'uomo. Ottobre 1980, per la prima volta della sua esistenza la Commissione Esecutiva della Comunità Economica Europea dichiara a Bruxelles lo stato di crisi manifesta della Siderurgia. Autore dei sovrapposti